Ho fatto questa scelta perché non vedo la mia vita senza business, alla fine mi sono chiesto anche una cosa che ho chiesto anche a tanti miei compagni che non si vede nel mondo del calcio perché tutti pensano che ti vogliono fare il calciatore per fare il calciatore, ma in realtà quello che ho chiesto è, che mi sono anche chiesto internamente, o tu vuoi fare il calciatore perché vuoi fare il calciatore o vuoi fare il calciatore per quello che ti dà il calcio, cioè la fame e i soldi.